in cui vorrei quel nuovo rumorino lì. Vi seguo sempre, ogni giorno, sul vostro canale. I miei cartoni preferiti sono Petit Cure, Capete, Machine Robot Rescue e Codice Angelo. Miki, sei molto simpatico, ma non devi mangiare troppi panini. Ci proverò. Romina, sei molto carina e simpatica come Miki. Ciao, un bacione da Nicola. Un bacione da noi, Nicola, e poi ci manda anche dei bellissimi gattini.